Si è trovato all'improvviso senza lavoro, senza indennità di disoccupazione, con un debito di 854.000 euro con l'Agenzia delle Entrate dell'Aquila presso l'ufficio di Sulmona e un'ipoteca sulla casa di cui ignorava l'esistenza. Ha impiegato un anno per far cancellare quel debito che gli è stato imputato per errore, mentre non è ancora uscito delle pistoie della burocrazia per ciò che riguarda l'erogazione della disoccupazione e il prestito richiesto alla nuova Carichieti tramite la legge antiusura. E' la storia di Romano Dovilio, di Torre dei Passeri, 54 anni. Secondo quando riporta l'Agenzia Agi, l'uomo è stato licenziato il 7 ottobre 2013 da una società per azioni per riduzione di personale. Ha inoltrato la domanda di disoccupazione all'Inps, chiedendo l'erogazione in un'unica soluzione per un totale di 15.000 euro per aprire un'attività tutta sua, ma gli è stato risposto che non poteva riceverla per problemi legati alla domanda che è presentato tramite commercialista e sindacato. E' riuscito ad avviare una sua attività e un venditore di caffè e quando ha chiesto alla banca un fido di 3.000 euro ha scoperto che il fido non gli poteva essere concesso perché sulla sua posizione c'era un vecchio debito di 854.000 euro per il quale però non ha mai ricevuto alcun avviso o alcuna notifica e la cui documentazione è stata mandata al macero da parte dell'Agenzia delle Entrate di Sulmona. Cercando di fare chiarezza su questa vicenda, l'uomo ha saputo ad agosto 2014 che il debito, da 854.000 euro, ha comportato un'ipoteca sulla sua casa, iscritta nel 2007, che il debito, derivante da un accertamento sull'imposta dei redditi del 1998, è stato associato al suo nome per un errore anagrafico. La questione riguardava la società per cui lavorava e non lui, che era socio a comandante. Essendo in difficoltà si è rivolto anche alla Copcredito di Chieti per ottenere 15.000 euro ricorrendo alla legge antiusura, ma la nuova Carichieti ha bloccato la pratica per due volte consecutive. Ora conta sull'aiuto della Prefettura di Pescara, a cui si è rivolto per accedere al progetto Gabbiano Ferito.